bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo tomat boom spencer la base ok non diventetevi troppo piccioncini chiudi la cella signor si signore allora e ma i miei soldi poi fagioli schifosi il naufragio e adesso questa gabbia è già almeno non abbiamo mai litigato aspetta che mi libero e te la faccio pagare so che tanto non lo fareste sei troppo buono non c'è cattivo più cattivo di un buono che diventa cattivo e che vuoi fare aspetta unendo le forze possiamo liberarci ok vediamo un po' cosa devo fare no ho sbagliato mira ok qui no è sbagliato eh che palle sto livello eh yes i doing ok siamo liberi muori muori ok 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 devo andarla allora tata no merda eh ciao peppino e baiorca no merda ti dà la luce rosa coglione ancora ti devi levare dal cazzo eh per forza così poi se io vado giù da qua mi becca no e ce l'abbiamo fatta ecco va ti pareva muore 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 e allora porco cane questi stronzi infami guardali 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 che non si vanno a colpire e allora sei un figlio di puttana vai 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 dai dai ci siamo quasi ci siamo quasi ok aspetta eh eh no torna indietro l'urda merda oh non crepano non crepano sti stronzi qui qui devo studiarmela bene ok 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 cosa devo fare se devo fare tecnica shutdown ok dai che ci siamo quasi ah ma ma che all'aspetta ok ho capito qui non mi dovrebbe prendere bella ci abbiamo fatto come hai fatto a slegarti pensavo fossi stato tu io ho solo acceso la luce con quell'affare fermi tutti le armi si sono trasformate in banane capo ho visto imbecille prendeteli si indecchia o no ok 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 indecchiamo indecchiamo un po' di gente qui muori 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 oh non muoiono si stronzi ecco tali ok diamo di quadro allora muore muore vai così mamma mia che bordelchi vai 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 oh boom porcu campero eh oh non crepa donna boom o ti muovi se siamo qua non ce la caviamo più eh oh non crepa auto ninja muori 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 Doppio pugno, vai così Toh, toh, toh Morite, mori, mori Oh, non crepano eh, tosta è il suo livello Ok Mori, mori, ok Eccoci qua, allora Eh, Dio santo Andiamo avanti, va, perché Eh, vabbè, ti pareva Certo, ci c'è di merda qua Ok Muori, per favore, muori Vai, eh, muori Andiamo su, va Ci siamo, mia cara Ancora poche ore realizzeremo il nostro piano Gli ospiti ci attendono nella sala ricevimenti Stasera brinderemo al nostro trionfo Quindi tutto questo complotto solo per delle scommesse Scommesse Sono un test sul campo E soldi facili Non vi rivelerò mai il mio piano Generale, i preparativi sono stati completati E attesi in sala controllo Sono così cattivo Che certe volte mi faccio perfino paura da solo Illusi, volevano farmi rivelare che sto sostituendo i potenti del mondo con i miei meravigliosi cloni Generale, mi pergo Idioti Ehi, hai capito cosa vuole fare quel dritto? Quel dritto? Qui va tutto storto E comunque avevo già capito tutto Io Voi due, aiutateci a uscire di qui Ma fate attenzione a non toccare le... Ecco Sbarre Ecco Eh, vabbè Muore, muore Non riesco a prenderlo E che cazzo Nooo c'è quel cazzo di robot il merda Buonasera ingenuele tuo prosegui la signora dai facciamoli fuori ancora ce n'è di sui stronzi e dai quando si imbarba porco cane e l'ho fatpulo porco vincio rompiti bene come facciamo a liberarvi potete usare il mio raggio superfotonico il tuo cosa? quello che avete in tasca pisa te finalmente l'agenzia ha mandato qualcuno Anderson e Smith suppongo la supposta è giusta io sono l'agente Tufano Aurelio Tufano l'agente all'Havana pensa ti credevamo morto no sono vivo ma il generale ha messo fuori uso il satellite che controlla tutti gli agenti quindi non possono più localizzarci no e nemmeno vaporizzarci? eh no lo so ragazzi è una disdetta ma dobbiamo fermarli quel pazzo indivisa farneticava di cloni che storia è questa? si chiama generale Cobram capisce personaggi influenti per clonarli sfruttando tecnologia aliena alieni? te lo dicevo che avevano un aspetto strano non sono semplici cloni comparati agli originali sono esseri eccezionali beh non poi così eccezionali vi aiuterò usciamo di qui voi restate finchè non sarà sicuro allora allora proteggi eh vaffanculo devo proteggere il suo stronzo e dai questo livello di merda quanto lo odio porca puttana oh non crepano oh no oh dio santo oh sto scordito bastardo e non riesco porca puttana muori no non lo stordisce sto coglione buon infame vuole un altro oh bravo ora cazzo oh non riesco a colpirli porca puttana vuoi morire ancora ancora ce n'è di questi oh braio oh ma vaffanculo porca puttana oh è rotto il cazzo crepa ma vaffanculo dio santo dio santo crepa ca puttana sti robot del cazzo sto rompendo sto rompendo il cazzo ma dio santo sto rompendo oh merco il cazzo e adesso come lo troviamo il generale quei due parlavano eccoci qua allora allora vediamo un po' quella deve essere la scorta del generale Cobram il ricevimento diventerà impenetrabile con tutti questi militari allora dobbiamo fermarli qui hai ancora l'aggeggio super fotografico? grazie piccolo grazie a te sceriffo ora potrò farmi venire a prendere da mio padre H724 sceriffo? sì è una lunga storia ok vai speriamo che non ci sono più voi cazzo di robot di merda che aspettate? ok vai sono più ok vai Mori, mori, mori. 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 Oh ma quanta cazzo di gente c'è qua? Uuuuh. Vai così. Oh ma quanti cazzo sono? No, c'è roba pure. Otta puttana. Cosa sta morendo? Dio santo. Uuuuh. Levatemi dal cazzo. Porca puttana, non crepano. Oh, vuoi morire o no, porco cazzo. Ancora ce n'è. No, vaffanculo. Che cazzo. Presto, salite a bordo. Abbiamo compagnia. Ora. E non mi prende le boccesse. Ti devi levare dai coglioni. Eh, porco d'incio. bello. No, vaffanculo. Oh, la. Grazie a tutti